A trasmissione di oggi tratteremo le determinazioni nel crogiolo dello stregone inserito nei quattro canti del mondo. Riassumiamo un attimino le cosiddette puntate precedenti. Il crogiolo dello stregone è un attimo però, prima si, mi si è ricordato che ci sono un paio cosette da dire, un paio di cose da dire. L'indirizzo intanto dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza, ripeto, Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti Casella Postale 53 Marostica Vicenza e là potete richiedere anche i libri che vi leggo in trasmissione. Una comunicazione personale all'amica Laura di Marghera, ho consegnato la busta che mi hai dato a Franco, per cui è tutto a posto. Poi abbiamo ricevuto attraverso Laura e Ivano una lettera da parte di Paolo di Paese, il quale mi ha inviato un articolo su Gesù di Nazareth, fatto dal giornale Oltre, da quello che ho capito, è abbastanza interessante anche perché effettivamente da un quadro generale di quello che è la ricerca di questo personaggio, lo studio di questo personaggio. Detto questo, riassumiamo un attimino che cos'è il crogiolo dello stregone. Il crogiolo dello stregone non è altro che lo stregone stesso, cioè è l'individuo che è l'insieme di cose, diciamo così, l'insieme di elementi che permettono alla persona di sottrarsi dalla posizione in ginocchio, della posizione di essere sottomessa, di essere oggetto d'uso da parte di qualcuno. Mescolando il proprio crogiolo, l'apprendista stregone si alza dalla posizione in ginocchio e diventa tutt'uno con libertà. E questo è il crogiolo dello stregone che abbiamo trattato ancora prima dell'estate scorsa. Dopodiché stiamo trattando due cose contemporaneamente. Il crogiolo dello stregone è messo nei quattro canti del mondo e il crogiolo del male. Il crogiolo del male è l'arte della vita, cioè l'arte del sistema in cui viviamo di metterci in ginocchio. Sono quelle cose che vengono fatte per metterci in ginocchio. Mentre invece il crogiolo dello stregone è inserito nei quattro canti del mondo, avviene quando l'apprendista stregone si accorge che il mondo che lo circonda è cosciente come lui, ha le sue stesse determinazioni, ha le sue stesse spinte, ha i suoi stessi bisogni, obbedisce allo stesso intento, anche se mescola dei crogioli diversi, cioè ha delle determinazioni diverse, per cui è diverso e uguale nello stesso tempo. È diverso perché ogni essere è diverso uno dall'altro, però è uguale perché le spinte che spingono gli intenti, il fine del fare, il fine della vita, il fine della magia, di quanto ci circonda, è uguale. L'apprendista stregone scopre che il mondo che ci circonda è un mondo cosciente e consapevole di sé. Allora, attraverso il suo fare, attraverso le sue azioni, l'apprendista stregone o qualsiasi persona che scopre che il mondo è uguale a sé stesso, attraverso le sue azioni non fa altro che mescolare sé stessa i propri bisogni, le proprie determinazioni, i propri intenti, con i bisogni e le determinazioni, gli intenti, di quella parte del mondo che lo circonda, che chiama e con la quale si mette in sintonia. Praticamente i due crogioli, cioè il crogiolo dello stregone e il crogiolo della coscienza con cui entriamo in relazione, si fondono e i due crogioli versano il proprio contenuto nell'altro. Per cui quando le due coscienze si staccano, non sono più uguali a prima, sono leggermente diverse e cambiate dalla relazione. Questa è la relazione dialettica che troverete nella teoria marxiana, nella teoria del divenire, che è stata inizialmente elaborata da Engels attraverso però la dialettica del pensiero, la dialettica delle idee, mentre invece nel marxismo la dialettica viene elaborata in maniera diversa, cioè è proprio relazione fra gli oggetti dove la relazione cambia gli oggetti che vengono in contatto. In realtà questo concetto, nella magia, nella stragoneria, nel paganesimo, è un concetto antichissimo, cioè il concetto della contraddizione è un concetto antichissimo, il concetto del divenire e della trasformazione è antichissimo. Voi pensate alla triade liber libera cerere, che è la libertà nella crescita, è il maschile e il femminile, cioè i due aspetti della libertà, i due aspetti in contraposizione che costruiscono la crescita, è essere e non essere e divenire. Per cui la relazione che costruisce gli elementi che entrano in relazione fra di loro è un concetto pagano fra i più antichi che esistano. Non è inventato da Engels e elaborato da Marx, è stato elaborato da Engels e rielaborato da Marx come scoperta filosofica, però in realtà il pagano è come riscoperta filosofica, proprio come uscita dall'orrore cristiano. Ma sono concetti pagani, sono concetti religiosi pagani antichissimo e che fanno parte della stragoneria. La stragoneria ha sempre pensato alle persone come individui che si costruiscono, individui che si trasformano, individui che modificano se stessi. Cioè in stragoneria il concetto speranza è un aspetto dell'intento delle nostre azioni. Nel cristianesimo il concetto speranza è il concetto di attesa, aspettativa, cioè è l'individuo che aspetta l'intervento divino. Per cui non è il concetto speranza del paganesimo, il concetto di divino di speranza, perché il concetto di divino di speranza nel paganesimo è una parte dell'intento, cioè io faccio delle azioni per costruire quella cosa, per cui le azioni che faccio costruiscono una speranza. Non è la mia aspettativa che aspetto che Dio intervenga. Cioè sono due concezioni diametralmente opposte nel paganesimo e nel cristianesimo. Per cui il concetto di costruzione dell'individuo è proprio della stragoneria, è proprio del paganesimo. Dopodiché, ultimamente, da quando si è uscito dall'orrore cristiano, abbiamo visto la storia dell'uscita dal cristianesimo nel processo che c'è avuto dall'800 al 1789, dopo di allora, dopo il 1789, si è ricominciato a ricostruire una filosofia, un sistema filosofico, che portasse fuori il genere umano dall'orrore cristiano in maniera definitiva. per cui molti concetti vengono riscoperti, però sono delle vere e proprie riscoperte, cioè non sono delle invenzioni o delle genialità, sono delle riscoperte di ciò che era la religiosità pagana e la stragoneria. In effetti, il cristianesimo non ha mai riconosciuto alla stragoneria e al paganesimo delle proprie concezioni filosofiche o una propria struttura di pensiero. Ha sempre usato quello che gli serviva, cioè l'immondizia, praticamente, tipo Aristotele, tipo Socrate, Platone, che rappresentano l'immondizia, tutto sommato, del pensiero pagano, perché anche se la loro elaborazione è stata fatta in un certo modo, aveva delle finalità e degli intenti diversi della liberazione dell'essere umano. Ricordiamo che Aristotele fu un insegnante di Alessandro Magno, insomma, per cui pensiamoci bene dove andava a parare la sua filosofia. L'uscita dall'aristotelismo, fatta, per esempio, anche dal Pomponazzi, è uno degli elementi centrali della ricostruzione della filosofia umana. Bene, detto questo come preambolo, quella che va in onda oggi è la quinta trasmissione del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. E l'argomento sono le determinazioni. Vi ricordo altresì un'altra cosa, che quello che io dico, metto in luce i meccanismi attraverso i quali questo avviene. Esistono moltissime forme diverse in cui gli stessi meccanismi si presentano in maniera diversa, oppure addirittura meccanismi che sono leggermente diversi perché intervengono dei fattori diversi. Per cui quello che vi dico io sono dei meccanismi da cui si può partire per costruire qualcos'altro, qualcosa che appartiene a voi. Cioè quello che dico io non è verità, io non ho verità, io ho un cammino di libertà. Il cammino di libertà determina sempre stadi di verità diversi. Per cui non esiste... La verità rende schiavi, si è chiaro questo. La libertà invece dà livelli sempre diversi di verità. Cioè non esiste una verità assoluta. Questo lasciatelo dire ai cristiani. I cristiani hanno il loro Dio nel quale risolvono qualsiasi cosa, ma questa è una porcheria. Esistono solo dei cammini di libertà, cammini di libertà infiniti che danno stadi diversi di verità a seconda del livello di libertà raggiunto dal singolo individuo, dal singolo specie, dai singoli esseri, dal singolo sistema. Per cui quello che io dico sono dei meccanismi e sono centrati in un certo modo. Quello stesso meccanismo ve lo potete tranquillamente trasportare in situazioni diverse o con elementi diversi. Dunque, quello che noi trattiamo oggi sono le determinazioni del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Nel crogiolo dello stregone vi avevamo messo un elemento anche se lo avevamo associato ad un altro. Ora, stacchiamo l'elemento determinazioni dall'elemento volontà. Cosa sono le determinazioni? Sono le relazioni obbligatorie dovute al divenire dell'essere e che solo praticando l'essere può continuare a sviluppare il proprio divenire. Scusate. Le determinazioni sono proprie specifiche dell'essere mentre la volontà è la forza attraverso la quale l'essere costruisce il proprio divenire affrontando le contraddizioni della propria esistenza. Potremmo dire che le determinazioni sono i mezzi che ogni specie della natura si è data per affrontare la vita e costruirsi mentre la volontà è la forza che permea l'universo e che spinge ogni essere a costruirsi. Nel crogiolo dello stregone abbiamo messo le determinazioni dell'essere umano perché senza l'esercizio delle proprie determinazioni l'essere umano rinuncia a costruire il proprio futuro. Il crogiolo dello stregone lo può costruire soltanto un essere umano che esercita le proprie determinazioni. Quali sono le determinazioni dell'essere umano? Tutte quelle relazioni che lo hanno costruito come essere della natura e le sue specificità essenzialmente lo sviluppo della sua ragione la sua peculiarità nel descrivere il mondo le sue peculiarità nella costruzione del pensiero astratto l'uso delle mani e la velocità con la quale manipola la materia la pratica della sua sessualità ci sono le relazioni sociali all'interno della propria specie c'è anche la specificità delle relazioni sessuali ma di questo ne parleremo con palpare il mondo un altro elemento del crogiolo in altre parole esercitiamo le nostre determinazioni quando agiamo per risolvere le contraddizioni in noi fra ragione e consapevolezza fra noi e la nostra specie all'interno della ragione fra noi e l'essere natura di cui siamo parte esiste una specificità di sviluppo e una particolare determinazione dell'intento fra l'essere umano e il mondo che ha selezionato questo tipo di essere quando un essere umano rinuncia al proprio ruolo di determinazione sociale quando un essere umano rinuncia al proprio ruolo di determinazione nei confronti dell'essere natura quando un essere umano rinuncia al proprio ruolo di determinazione di se stesso rinuncia a percorrere la via per la propria costruzione praticare le proprie determinazioni significa per un essere continuare il proprio sviluppo lungo la linea evolutiva che la specie cui appartiene ha costruito. Le determinazioni dicono a che tipo di specie apparteniamo, dicono che noi apparteniamo alla specie umana, in quanto pratichiamo le determinazioni proprie della specie umana. Molti apprendisti stregoni, giunti a determinati stadi di sviluppo della loro conoscenza e consapevolezza, hanno seguito vie di altre specie. Alcuni di essi sono diventati esseri lupo. Altri si sono immersi in mondi percettivi propri della ragione di esseri diversi dalla nostra specie, rinunciando ad esercitare le determinazioni proprie degli esseri della specie cui appartenevano. Sono scelte autodistruttive, scelte determinate dall'abbaglio della percezione e dall'assoggettamento personale al percepito, sempre scelte autodistruttive. L'esercizio delle determinazioni, in quanto specie, ci permette di entrare in relazione, sia sul piano della magia che su quello della ragione, con le determinazioni delle specie che ci circondano. Prendiamo l'essere natura come esempio. Ogni essere di ogni specie e il suo interno esercita le proprie determinazioni. Proprio perché esercita le proprie determinazioni, si costruisce un equilibrio fra le specie costruendo il divenire dell'essere natura. Io posso comprendere e portare il crogiolo dello stregone ad interagire col crogiolo dello stregone di ogni specie o essere di questa, solo nella misura in cui esercito le mie determinazioni nelle relazioni con l'essere natura nella vita quotidiana. L'essere umano ha le mani e trasforma l'essere natura appropriandosi, distruggendo o costruendo. In ognuno dei tre fare, l'essere umano esercita le proprie determinazioni. Ognuno di quei fare determina una direzione all'essere umano e la pratica del suo fare nell'esercizio della sua determinazione qualifica la relazione che costruisce. Appropriarsi significa ritenersi in diritto di distruggere qualunque coscienza in quanto ci si ritiene in diritto di disporre di ogni coscienza a proprio piacimento. distruggere significa operare più di quanto necessita l'essere umano impedendo ad altri esseri di esercitare le proprie determinazioni senza che questo sia necessario per soddisfare i propri bisogni. Costruire significa usare le proprie determinazioni variando l'ambiente in funzione dei propri bisogni con una finalità di costruire migliori condizioni di vita per la propria specie senza saccheggiare il circostante più di quanto necessiti. La costruzione può implicare l'abbattimento di una foresta ma avviene in funzione dei propri bisogni in quanto manifestazione dell'essere. Nella distruzione l'abbattimento della foresta obbedisce a criteri di controllo e di dominio su esseri della propria specie. Per esempio le foreste nordiche, le foreste in Lituania e in Lettonia, i cristiani le abbatterono per distruggere le foreste sacre dei pagani. Non perché gli serviva il legname ma perché potevano distruggere il paganesimo distruggendo la foresta. Per cui fu un atto di distruzione per mettere in ginocchio gli esseri umani. Gli esseri umani che esercitano le proprie determinazioni iniziano sempre da ciò che sono. Essi sono esseri sociali e dunque le proprie determinazioni le esercitano all'interno del sistema sociale al fine di sviluppare spazi nei quali costruire il proprio potere di essere. Questi esseri umani quando giungono a relazionarsi con altri esseri della natura hanno esercitato le proprie determinazioni nella propria specie limitando il saccheggio di questa. Questi esseri umani sono pronti per entrare in relazione con ogni essere dell'universo che esercita le proprie determinazioni. Le determinazioni qualificano l'individuo che davanti all'universo proclama gran voce. Io sono. Questo io sono lo pratica all'interno della propria specie diventando essenza della propria specie mentre costruisce la libertà del fare per alimentare il potere di essere. Egli partecipa all'equilibrio delle specie dell'essere natura. Egli diventa apprendista stregone nell'essere natura. Il suo crogiolo entra in relazione con ogni crogiolo di ogni essere. Eccolo in riva il fiume. Quale fiume? Non importa. Quel fiume. Mentre esercita la propria attenzione e la propria contemplazione, egli diventa fiume. Solo esercitando le determinazioni all'interno della propria specie si può raccogliere forza sufficiente per fondere il crogiolo con quello degli esseri che ci circondano e possedere forza sufficiente per non sottomettersi. Anche persone che non esercitano le proprie determinazioni possono percepire la magia del fiume, ma per loro quella coscienza diventa un dio davanti al quale mettersi in ginocchio. Quella coscienza si ritiene in diritto di prosciugare il loro essere al quale loro hanno rinunciato. Al contrario, chiesarci dalle proprie determinazioni, fonde il proprio crogiolo con quello del fiume, con quello del bosco, con quello della montagna, con quello degli esseri animali o esseri senza corpo o tensioni coscienti. Costruendo una relazione, scambiando energia vitale, diventano sempre più potenti ad ogni relazione. Chi ha rinunciato ad esercitare le determinazioni proprie della specie cui appartiene è preda di ogni coscienza in quanto ha rinunciato ad esercitare il proprio potere di essere. Così l'essere cervo distratto all'arrivo del predatore sarà quello su cui il predatore accentrerà la sua attenzione. Quell'essere cervo ha rinunciato ad esercitare le sue determinazioni. Non ha più un crogiolo da fondere con quello del predatore, ma ha rinunciato aspettando di morire. Sono un essere umano ed esercito le determinazioni dell'essere umano. Proprio per esercitare le determinazioni dell'essere umano posso fondere il crogiolo con ogni essere che mi circonda. Solo come essere umano posso diventare essere sole, fondendo il crogiolo quel lato umano dell'essere sole. Solo come essere umano posso fondere il crogiolo diventando mare, bosco, fiume, fonte, montagna, pianeta. Riconoscendo ed esercitando le determinazioni di essere umano mi riconosco un Dio che costruisce il proprio cammino e riconoscendo il Dio dentro ogni coscienza con la quale entro in relazione posso fondere il crogiolo diventando ogni coscienza che mi circonda. Ogni coscienza che mi circonda vive della compassione, cioè vive della stessa passione che mi attraversa alimentandola e alimentandosi da questa relazione. Se devo scegliere quale fra i due esseri albero abbattere, scelgo quello con cui non sono riuscito a costruire una relazione fondendo il mio crogiolo. Le determinazioni rappresentano dunque il biglietto da visita dell'essere nelle relazioni all'interno dei quattro canti del mondo. Nei quattro canti del mondo non si può trovare commiserazione per il proprio venir meno alle determinazioni come specie. La sconfitta, quando entra a coinvolgere l'essere, non ha giustificazioni salvo il disprezzo per chi l'ha costruita. Non c'è rifugio nei quattro canti del mondo e anche se a qualcuno le relazioni sembrano consolatorie, la sua distruzione è in atto, esattamente come l'essere tigre in agguato sull'essere cervo che ha rinunciato ad usare le sue determinazioni davanti alla vita. Così il soggetto con il quale esercitiamo le nostre determinazioni è divenuto esercitando le determinazioni all'interno della propria specie, modificando e costruendo il proprio divenuto. Così se io fondo il crogiolo con quello dell'essere quercia, non fondo il crogiolo con quello di un essere quercia, ma con quello di quello specifico essere quercia che attrae o si fa attrarre dalla mia attenzione, in quel momento quell'essere quercia, per la fusione del mio crogiolo col suo, sarà il divenuto di tutti gli esseri querce e io rappresenterò il divenuto di ogni essere umano per il suo crogiolo. Non tutti gli esseri querce fondono i loro crogioli con quelli degli esseri umani. Non tutti gli esseri umani fondono il loro crogiolo con quelli degli esseri querce. Nei momenti in cui questo avviene, quell'essere quercia diventa l'essenza della sua specie. In quel momento in cui avviene, quell'essere umano diventa l'essenza della sua specie. Quell'essere umano riversa nel proprio crogiolo tensioni proprie dell'essere quercia. Quando fonderà il proprio crogiolo con gli esseri umani della sua città, del suo paese o più in generale del sistema sociale in cui vive, nei loro crogioli verserà anche le tensioni dell'essere quercia, anche se queste sono mediate dal suo crogiolo. Fondendo il crogiolo, l'essere umano ha esercitato la propria magia nei confronti dell'essere quercia e l'essere quercia ha esercitato la propria magia nei confronti dell'essere umano. Entrambi riportano all'interno della propria specie parte della relazione. L'essere quercia ha potuto costruire la relazione in quanto ha esercitato le proprie determinazioni all'interno della propria specie e l'essere umano ha potuto costruire la relazione in quanto ha esercitato la relazione all'interno della propria specie. Entrambi hanno detto all'universo io esisto. Entrambi hanno esercitato le loro determinazioni prendendo nelle proprie mani il proprio divenire. Con un altro essere quercia e con un altro essere umano questo non sarebbe mai avvenuto. Probabilmente la relazione sarebbe avvenuta soltanto a colpi d'ascia. I due esseri hanno costruito i loro quattro canti del mondo in cui hanno inserito i loro crogioli. Hanno superato la forma per giungere a comprendere aspetti della loro consapevolezza, dei loro desideri, dei loro bisogni, delle loro tensioni arricchendo entrambi. Per un attimo i quattro canti del mondo per loro si sono accesi e hanno vibrato all'unisono. Per un attimo l'essere quercia è diventato essere umano e l'essere umano è diventato essere quercia. Per un attimo la consapevolezza dell'essere umano si è imposta alla ragione. L'essere quercia non è solo legna da tagliare ma anche una coscienza che agisce per costruirsi nell'eternità dei mutamenti. L'essere umano non è vissuto cercando la relazione con l'essere quercia. Ha vissuto esercitando le proprie determinazioni all'interno della propria specie come essere umano. Esercitando le proprie determinazioni si è costruito e ha potuto superare la consapevolezza specifica della propria specie. Ha potuto fondere il proprio crogiolo con quello delle specie e delle coscienze che lo circondano, superando la consapevolezza della propria specie. Dove arriverà a fondo il proprio crogiolo? Appartiene al suo cammino, alle sue predilezioni, alla sua capacità di esercitare le sue determinazioni all'interno della propria specie. Quale vento ci spinge ad esercitare le nostre determinazioni? È il vento di volontà, una delle forze che permea l'universo. E nella prossima trasmissione parleremo del crogiolo del male e nel crogiolo del male metteremo volontà. Parleremo come viene distrutta volontà attraverso il crogiolo del male. Bene, scusate un attimo, vediamo un attimo. Pronto? Bene, abbiamo terminato la presentazione delle determinazioni, l'esercizio delle determinazioni nei quattro canti del mondo. Il crogiolo dello stragone, allora adesso lo mettiamo nei quattro canti del mondo, cioè lo mettiamo nelle relazioni con gli altri crogioli. E questo è l'esercizio delle determinazioni. È importantissimo conoscere i vari aspetti in cui si sviluppano le determinazioni. Noi sviluppiamo le prime determinazioni come esseri umani all'interno della famiglia. La famiglia cerca di bloccare le determinazioni oppure di svilupparle a seconda del tipo di famiglia che abbiamo. Dopodiché noi le esercitiamo nel sistema sociale in cui viviamo, cioè noi non abbiamo percezione nel mondo circostante prima di aver percezione del mondo sociale in cui viviamo. Per cui le nostre determinazioni dobbiamo esercitarle nel mondo sociale in cui viviamo, cioè con i nostri simili. Quando noi costruiamo le relazioni con i nostri simili, costruiamo anche noi stessi. E solo esercitando le determinazioni all'interno del sistema sociale in cui viviamo, possiamo esercitare le determinazioni con esseri diversi da quelli della nostra specie. Questo è importantissimo perché esiste un sacco di gentaglia in giro che ti va in giro raccontando che facendo un certo tipo di pratica, un certo tipo di yoga, un certo tipo di non so, di meditazione eccetera, tu arrivi a stadi di contemplazione, che non è assolutamente vero. Cioè tutte queste cose rappresentano la negazione di se stessi nella misura in cui sono assolute. Cioè nella misura in cui io questa cosa la faccio come elemento assoluto, nego me stesso, cioè nego la mia pratica. Se invece pratico yoga, pratico meditazione, pratico tutto come degli strumenti che mi servono, cioè come degli strumenti che mi servono per acuire l'attenzione, per acuire una serie di cose che io ho, allora un altro discorso. Allora va benissimo fare yoga, va benissimo fare anche arti marziali, va benissimo fare meditazione, va benissimo fare concentrazione, recitazione, cioè qualsiasi cosa che si faccia va bene. Però se quella cosa che si fa, anziché essere uno strumento di cui noi ci serviamo, diventa invece un assoluto, allora in quello noi ci esauriamo e quell'assoluto ci distrugge. Pronto? Ciao Gianpaolo. Aspetta un attimo, ti metto in linea. Dimmi tutto. D'audio. Dimmi. Rimanere padroni assoluti di se stessi. È una gran parola che ho detto adesso che forse può far ridere, però rimanere padroni assoluti del proprio essere è possibile. Certo. Siamo d'accordo? Sì. E io non sono pagano, non sono questo, non sono... però io sento dentro di me, stranamente la quercia di cui hai parlato prima, la tocco, la sento e l'ho sempre sentita fin da piccolo, proprio il rapporto viscerale con l'animale, con la pianta, con il piano, diciamo, animale, vegetale e anche minerale. E lo sento dentro questa padronanza di me stesso. Perché se io non voglio respirare, non respiro, sempre teoricamente, ma lo posso fare di non respirare. Mi spiego? Sì. Cioè, la mia autosuggestione che io ho in me, chiamalo come vuoi, mi dà energia, mi dà forza, ma sono io che lo voglio. È vero. E questo tanti si metteranno a ridere. Inginocchiatevi ragazzi, inginocchiatevi, io non mi inginocchio. Scusami eh. Ti ringrazio. Grazie Gian Paolo. Sono veramente forti le ultime parole che hai detto, veramente, per me sono forti. Ciao a tutti. Ciao e grazie. Ciao. E con Gian Paolo che ci siamo visti al ristorante purtroppo non abbiamo potuto parlare più di tanto. C'è una cosetta che io voglio dire, mi hanno telefonato che ultimamente parlo meno, parlo meno dei cristiani, parlo meno del Dio dei cristiani, alcune cose. Vi ricordo che sempre su questa radio, la domenica sera, dai 18 alle 21, c'è la trasmissione di Ivano e Laura che fanno le pulci alla Bibbia. Per cui se a qualcuno gli interessa di vedersi la Bibbia cosa dice, può ascoltare tranquillamente Ivano e Laura, dico domenica sera dalle 18 alle 21, che loro ci fanno le pulci. Poi magari anche se su alcuni modi di leggere le cose non si è d'accordo, ha nessuna importanza. Quello che loro vi danno, vi permettono di avere un quadro generale della visione biblica che è interessante, insomma, anche perché loro la conoscono molto meglio di me. Per cui se qualcuno vuole sapere com'è la visione biblica, cioè il nostro concetto di dire che, ricordate le tre scoperte della stragonaria sul Dio dei cristiani. Primo, non esiste nessun Dio creatore, è una balla, pure semplice. Secondo, la descrizione biblica è solo una descrizione di terrore e di comodo per sottomettere e terrorizzare le persone. E terzo, esistono degli esseri di energia che prendono, che quando qualcuno ha la percezione, si spacciano come Dio creatore, perché questa tipologia di esseri si nutre di energia vitae stagnata. Bene, per conoscere del Dio biblico vi consiglio ascoltare Ivana e Laura. Pronto? Sì, Radio Gamma 5. Sì, Radio Gamma 5. Senta, io sono una sua fedele. Mamma, la mamma è grossa. Ascoltatrice, sa, no? Come... Sì, sì, ho capito. Allora, io ho sentito una trasmissione, forse un paio di giorni fa, forse ieri, alla radio, e parlavano di ricerche che fanno sugli scritti di Giordano Bruno, le chiamano ricerche brunarie. Addirittura in Giappone, insomma, addirittura in Inghilterra hanno scritto anche di libri e perciò in un certo senso si sta avverando un po' quello che lui un po' prevedeva così rispetto di altre religioni, di altri modi di essere. Ecco. Sì, ma è strano il discorso qua di Bruno, ma è strano tutto il periodo storico, eh? Giordano Bruno? Mi senti? Sì. È strano tutto il periodo storico. Di Giordano Bruno? Sì, Giordano Bruno, quello che ha preceduto, quello che l'ha seguito. Beh, tanto faranno questo, può darsi che non usci. No, no, è vero, però è strano perché c'era una percezione della natura, alcuni filosofi, diciamo, sia Bruno sia altri, percepivano un intervento della natura così massiccio, addirittura, che ha fatto spaventare la Chiesa Cattolica. Sì, beh, insomma, se adesso riscoprono dopo 500 anni. Sì. Tra l'altro lui allora diceva anche che non è stata la scoperta dell'America, ma la conquista dell'America e la distruzione delle religioni e delle culture che potevano esserci in America. Insomma, voglio dire che anche a quei livelli, perché se il Giappone si riunisce per studiare, dell'Inghilterra, scrive dei libri, vuol dire che, insomma, dopo 500 anni, quel povero Cristo mi è andato a rogo. Sì, ma è un personaggio importantissimo, Bruno, eh? Eh. Un personaggio molto importante. Va bene, grazie. Grazie. Ciao. Il problema è che in tutto quel periodo storico, che è praticamente il XVI secolo, ci sono stati un fiorire di pensatori, Bruno, ma anche il Cardano, il Pomponazzi, il Vanini. Poi c'è l'esplosione di tutto quello che è il pensiero libertino, che è stato importantissimo per lo sviluppo degli esseri umani. Pronto? Pronto? Sì. Parlo con Gamma 5? Gamma 5, dimmi. Eh sì, volevo parlare con Nico. No, no, devi andare al numero di telefono. Ah, scusi, grazie. Prego. In quel periodo storico c'è stato un fiorire, cioè effettivamente la natura ha premuto sulle persone, le persone hanno scoperto la natura, la natura come coscienza, la natura come immanenza, la natura proprio come sensibilità. Lo stesso Vanini, per esempio, i 6 scritti, portavano a trovare il divino nella natura. C'era praticamente un fiorire di questo tipo di pensiero. Fate conto che il Pomponazzi, addirittura aveva elaborato il concetto secondo cui anima e materia sono la stessa cosa. Pensare un concetto del genere nel 1500, proprio anche in contrapposizione ad Aristotele, in contrapposizione a un sacco di pensatori, un concetto del genere nel 1500 è un concetto estremamente rivoluzionario. Voi pensate che il Pomponazzi, che insieme al Bruno, insieme a Galilei, insieme al Vanini, il Pomponazzi è comunque il padre di tutti questi, è forse il più grande filosofo italiano del XVI secolo, è insegnato qui a Padova. Beh, in italiano non c'è niente. Io ho fatto una ricerca per avere dei libri del Pomponazzi, ho trovato solo del materiale, sono dei libri pubblicati in Svizzera e riprodotti a Padova, pubblicati in Svizzera e in latino. Per cui sto aspettando che mia figlia impari latino per tradurmerli, perché io chiaramente non so le lingue. Però del più grande filosofo del XVI secolo non c'è niente, ed è effettivamente il più grande genio del XVI secolo in filosofia. Bene, Bruno, Giordano Bruno e Galilei, che sono figli di Sto Pomponazzi, praticamente, che prendono da lui quello che è la gran parte del pensiero, insieme al Vanini, insieme al Cardano, sono parecchi in quel periodo, ed c'è pochissimo materiale. Di Bruno si sta traducendo molto di più, si sta traducendo molto di più di Tommaso Campanella, per esempio, c'è più materiale, però già Campanella è un po' diverso, con la sua città del sole, era più utilizzabile, non era un ribelle, era un duro, però era meno ribelle degli altri, almeno a livello di pensiero. Infatti è riuscito a sopravvivere al carcere e alle torture, oltretutto. Bene, andiamo avanti ancora con questo discorso. Io ho un pochino di rassegna stampa, non ne ho tantissima, ma vediamo un attimino di parlare un attimino. Io ho qui un articolo di lunedì 23 marzo 1998. A proposito, non fatemi discutere più di tanto, perché sono venuto in radio per riposarmi. Fra i lavori studi, fra il lavoro per mangiare, fra il lavoro per cambiare casa e per il trasloco, sono venuto effettivamente in radio per riposarmi. Lunedì 23 marzo 1998, il Gazzettino. Il Papa, mano tesa ai musulmani, durante il suo viaggio che sta facendo. Sempre sulla stessa pagina, uno sceicco scita, afferma, la Chiesa non deve scusarsi per l'Olocausto. Vi ho detto che c'è questo tentativo di omogenizzare gli intenti di organizzarsi da parte della Chiesa cristiana con i musulmani e con gli ebrei per riuscire a costruire qualcosa che vada a distruggere ciò che sta nascendo. Purtroppo è il nuovo orrore che sta venendo avanti. Si cerca di chiedere perdono per quanto è successo, ricordandosi che poi il perdono è una roba cristiana che non gli frega niente a nessuno. Cioè, la Chiesa Cattolica deve condannare tutti quelli che hanno commesso crimini. Questa è la prima cosa che deve fare. Deve condannare i papi e deve morargliela con il terrorismo. Quando ce la morerà col terrorismo nei confronti degli uomini comincerà a rispettare quelle che sono le leggi, comincerà a rispettare quelle che sono le direttive umane, allora si potrà cominciare anche a discutere del loro pensiero religioso. In realtà il pensiero religioso la Chiesa Cattolica tenta di imporlo socialmente, cioè tenta di imporre il concetto secondo cui o fai quello che vuoi io o ti ammazzo, lo sta tentando di imporlo sopra qualsiasi altro tipo di pensiero. E sta cercando, per fare questo, di organizzarsi insieme agli ebrei, insieme alla religione ebraica e insieme alla religione musulmana, che hanno la stessa espressività. Cioè, tutte e tre queste religioni hanno il fondamento o fai quello che voglio io o io ti ammazzo. Per cui a questo punto si tratta di avere un'organizzazione di comando per riuscire a far fare alle persone quello che vogliono loro. Infatti tutte queste tre religioni tentano di imporre la loro morale a livello giuridico, cioè la morale musulmana a livello giuridico nei paesi musulmani, la morale ebrea a livello giuridico nei paesi ebrei, in Israele comunque, e la morale cristiana come morale giuridica nei paesi cristiani, che è veramente aberrante, in quanto è in contraposizione a tutti i sistemi giuridici, cioè tutti i sistemi giuridici sono in contraposizione al cristianesimo. Se qualcuno avesse dei dubbi di questo, vi ricordo le direzioni in cui vanno i sistemi giuridici. Mentre nei dieci comandamenti, che dopo ripropongo il sistema giuridico in qualsiasi paese di dominazione cristiana, Dio impone agli esseri umani cosa devono fare per mettersi in ginocchio, cioè dice tu non avrai altro Dio, tu farai questo, tu farai quest'altro, tu, cioè dice al più debole quello che deve fare, nella costruzione del codice di Amurabi, Amurabi costruisce le sue leggi affinché anche il più debole possa avere giustizia. Dopo chiaramente il più debole è tutto da discutere, perché appartiene sempre all'epoca o al periodo o alle concezioni, però mentre nel codice di Amurabi si andava a tagliare l'assolutezza dell'imperatore, l'assolutezza del Dio per dare spazio al più debole e questo processo era ampliabile, cioè si poteva ampliarlo all'infinito, nel senso che se io oggi faccio tipo, non so, Giovanni Senzaterra, do la magna carta ai nobili, è chiaro che sono solo alcuni nobili che hanno i diritti, però un po' alla volta questi diritti si possono ampliare, cioè è un processo di libertà, è un processo di espansione della libertà, per cui si può arrivare alla costituzione, si può arrivare alle leggi oggettive, si può arrivare a un concetto giuridico dove tutti gli esseri umani sono uguali all'interno del sistema giuridico. Mentre invece all'interno del sistema giuridico cristiano, dove è il padrone che impone il modo con cui essere servito è solo per essere servito e non pone nessuna limitazione a se stesso, ricordate i figli di Zebedeo, quando vanno a Gesù e dirgli sì, noi ti facciamo questo, però tu devi prometterci di farci sedere alla destra del Padre, sto citando memoria, alla tua destra quando sairai in cielo, no? E Gesù dice no, vi altri potrebbero fare sicuramente quello che dite, però se Dio che decide fa tutto lui e non stai chiedendo niente a Dio, cioè nessuno può imporre qualcosa a Dio, cioè nessuno può fare un contratto, cioè non è che se voi siete buoni andate in paradiso, voi potete anche essere malvagi e Dio decide di mandarvi all'inferno, questa è la direzione cristiana. Pronto? Ciao, sono Tina di Abano. Ciao Tina. Ti ricordi? Sìììììììììììììììììììììììììììììììì ! alla Tina, eravamo seduti di fronte a mangiare non abbiamo potuto parlare molto ma insomma due battute le abbiamo scambiate eravamo al pranzo di Radio Gamma 5 insomma in questi pranzi il bello dei pranzi è la tanta gente che c'è e il brutto dei pranzi è che c'è tanta dispersione di dispersione fra persone non si può mai, magari quella simpatica non la trovi, non ti accorgi in tempo c'è tantissime cose che non vanno molto bene e moltissime cose vanno bene ci siamo divertiti, un casino, c'è stata tanta musica tanta festa, tanta gente ha ballato tanta gente si è divertita io ho mangiato e ho bevuto anche comunque è il bello dei pranzi intanto grazie Tina di Abano che mi ricordo perfettamente di te almeno perfettamente, sì, mi ricordo insomma va bene riprendendo il discorso diciamo che queste sono le due direzioni su cui vengono costruiti i sistemi giuridici queste due direzioni una che limita il potere assoluto e che dice e che tende a dire tutti gli uomini devono essere uguali e l'altra direzione che dice e ti te fe quel che voglio mi per cui neanche i figli di Zebedeo possono dire a Dio se io faccio questo tu mi dai qualcosa mi prometti il paradiso se io faccio questo e Dio dice se mi voglio ti te ve l'inferno cioè esiste un'assoluta un'assoluta indipendenza del giudizio di Dio da qualsiasi azione che fanno gli esseri umani per cui cari cristiani inutile che voi pensate di comportarvi bene se Dio vuole andrete all'inferno pronto per cui non esiste nel cristianesimo una promessa divina perché Dio è fuori da ogni promessa cioè non è non è possibile che Dio faccia una promessa e che mantenga la promessa cioè è fuori da qualsiasi concezione cioè è roba da essere messi sul rogo se pensate una cosa del genere mentre invece nel paganesimo e partendo proprio da quello che è il fondamento del codice di Hammurabi è proprio la limitazione del potere assoluto cioè il potere assoluto che viene limitato finché siamo arrivati oggi a una costituzione repubblicana che non viene seguita non viene rispettata per tanti motivi cioè però quella costituzione è stata fatta e chi non la rispetta gli si può sempre chiedere 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 conto di questo giuridicamente parlando il fatto che non venga fatto beh ci sono tante forze che arrivano a equilibrare e a squilibrare però siamo arrivati a una costituzione che dovrebbe dire tutti gli individui sono uguali davanti alla legge e la legge vale per tutti quegli individui che hanno commesso quella cosa questo è una tensione è una tensione che è pagana mentre invece al contrario una tensione cristiana è quello di io sono il padrone e faccio quello che voglio io ricordate voi Tilla che dice ai cinesi libertà per il vescovo cattolico libertà per i cattolici sì ma perché non dici anche che i cattolici devono rispettare le leggi questo è importantissimo cioè noi dobbiamo sapere esattamente questo cioè la libertà non va fatta perché uno è di quella religione ma perché uno è stato incarcerato ingiustamente in Cina i vescovi non vengono incarcerati ingiustamente vengono incarcerati perché non rispettano le leggi punto basta leggi giuste o leggi ingiuste non ha importanza non sta a me discutere questo però vengono incarcerati perché non rispettano le leggi in sostanza vogliono costruire un sistema nel quale fare l'emosina fare la carità fare costruire la miseria per avere un sistema di dominio questo è in realtà in Cina ci sono migliaia di cose che non vanno bene ci sono un sacco di porcherie che bene o mai continuano però ci sono anche delle cose positive la guerra che ha fatto la Cina contro l'abitudine di ammazzare il primo genito femmina o di fasciare i piedi o anche la riabilitazione economica è stata una cosa grandiosa sono state delle lotte in mani voi pensate che si lavora su un miliardo e 300 milioni di persone per cui su un miliardo e 300 milioni di persone se voi fate i conti in Italia quante porcherie sono state fatte a livello di governo a livello di Stato anche solo partendo dai processi fatti moltiplicate questo in una situazione come la Cina quanta corruzione potete avere quante cose che non vanno potete avere nonostante questo se prendete i stessi livelli in cui eravamo noi 15 anni fa e come era la Cina 15 anni fa o 20 anni fa o 30 anni fa o prima addirittura della rivoluzione comunista o prima ancora della rivoluzione del 1905 1910 c'era la rivoluzione borghese vedete un po' in che condizioni erano e quanti passi sono stati fatti chiaramente i passi non sono mai sufficienti le cose non sono mai se è tutto migliorabile però in effetti il problema è questo il problema è che i cattolici vogliono avere uno strato su cui far pressione all'interno della Cina e naturalmente loro chiedono libertà per i cattolici anziché dire rispettiamo le leggi e questo è la cosa grave cioè questo è che trasforma il cattolicesimo una setta una setta nemica se qualcuno avesse dei dubbi vi ricordo le persecuzioni contro i cattolici contro i cristiani fatti da vediamo un attimo se mi ricordo non domiziano vabbè non ha importanza fatte durante il periodo di Roma no? dell'antimperatore romano non quelle di Nerone che sono falsi a quelle persecuzioni c'è tanto da dire ma quelle fatte da non domiziano porca miseria non mi viene più il nome vabbè non ha importanza quelle persecuzioni furono fatte proprio per mantenere lo Stato unito cioè nessuno chiedeva ai cristiani di adorare gli dei pagani se non in un secondo momento si chiedeva soltanto che i cristiani partecipassero allo Stato cioè partecipassero alla difesa della città partecipassero a quello che era la vita pubblica in realtà i cristiani volevano dominare la città volevano impadronirsi della città non volevano partecipare alla vita pubblica pertanto erano pericolosi erano pericolosi per la nazione e abbiamo visto dopo quello che è successo pronto? ciao sono la Fulvia ciao Fulvia senti io ti sto ascoltando no? e mi è venuta così una curiosità e volevo sapere tu che cosa ne pensi e se sei d'accordo sulla determinazione che ha una persona per diciamo procurare il cosiddetto miracolo il cosiddetto miracolo si tu cosa ne pensi? certo se io ho capito meglio una persona che viene miracolata no non tanto lei viene miracolata e quindi gli si è fatto dono del miracolo ma quanto che tu sei miracoloso in quanto essere determinato ho la radio troppo alta non so se penso che sia la tua radio si in questo momento se la basso no spiegami un po' meglio cioè se io sono molto determinato posso essere miracoloso per una persona miracoloso per te stesso e anche per quello che ti sta intorno eh si posso dirti qualcosa a proposito si ti dico per radio eh si io metto giù e tu parli d'accordo dopo un domenio mi richiami va bene ok ciao ciao intanto grazie Fulvio per telefonata il problema è questo eh scuotere scuotere il mondo scuotere le colonne del cielo mettiamoci in queste condizioni noi abbiamo tutte le persone che credono nel cattolicesimo no abbiamo tutte le persone in ginocchio se una persona sola comincia a scuotere il pensiero a scuotere eh a scuotere il modo di vedere le cose delle persone scuote anche la loro energia cioè scuote anche le tensioni del mondo abbiamo detto che il mondo non è che sia fatto di oggetti inanimati ma è fatto da pensiero è fatto da eh tensioni è fatto da coscienze è fatto da magia per cui se io scuoto me stesso e scuoto il mio crogiolo il mio crogiolo va a interferire coi crogioli con le persone che mi circondano cioè come il bosco come il piante come il sole come il vento come come atmosfera possono interagire sulle persone possono chiamare le persone verso se stesse così anche gli esseri umani che scuotono il loro crogiolo che sono determinati in se stesse arrivano a scuotere le linee di tensione le linee di energia che arrivano alle persone chiaramente non tutte le persone sono sensibili a questo cioè non è che io eh posso scuotere l'energia di tutte le persone del mondo però posso portare le persone a scuotersi cioè la mia energia il mio fare le mie parole il mio modo di essere il mio modo di pormi la mia violenza verbale a volte scuote comunque le persone e le persone si mettono in moto per cui esistono che a un certo punto dicono cazzo ma anch'io esisto cioè non è solo quello che sei imbecille che dice che sono un dio anche a me sono un dio anche all'albero sono un dio anch'io cioè solo nel fare questo pensiero si mettono in moto delle energie assopite che non ci si era mai pensato non c'era neanche ipotizzato che esistessero cioè praticamente alcune persone si mettono in moto solo per il fatto che io sto parlando che io sto dicendo cazzate per cui effettivamente può essere che qualche persona stia meglio insomma possa sentirsi bene possa scuotersi possa provare anche a a vedere un po' la determinazione praticare un po' di agguato a vedere per cosa vive stabilire un intento per la propria vita cioè effettivamente qualcuno può essere scosso naturalmente cosa succede? che se qualcuno sente il mio pensiero sente quello che io dico non è che lo ricepisce perché prima era in ginocchio allora io lo tiro fuori dal ginocchio no lui era già non era più in ginocchio cioè lui era già pronto affinché qualcosa succedesse perché la diga si aprisse ecco probabilmente io posso fare questo per alcune persone però per la stragrande maggioranza questo non esiste pronto? sono Massimo ciao se vuoi insegnare la storia sì è meglio che ti documenti sì su Diocleziano e sul primo o secondo secolo dopo sì lo so che lo so che è un altro un altro che comincia con la D è che ha fondato la città di Spalato mi sembra un fiume si comincia con la G comincia con la D impara e dopo puoi insegnare sai sì no ma lo so che non mi ricordavo più come si chiamava è che ho cambiato il nome lo so questo bene ciao ciao sì ragione so benissimo che non mi è venuto in mente però siccome non ce l'ho qui scritto e lavoro a memoria non mi è venuto in mente il nome giusto pronto? bisogna tintare mesere prima di tutto e le tante importanti di spiegare le cose questa becca va da scuola benissimo grazie non è mai troppo tardi la tua età sei troppo vecchio di mentalità sì grazie vecchio rocchione riccione 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 oh che bello ciao beh beh sono troppo vecchio e sono anche un riccione vabbè per cui come stavo arrivando per cui posso scuola anche questa persona che mi ha insultato in questo momento è stata scossa soltanto che lei reagisce in maniera diversa tutto lì per quanto riguarda per quanto riguarda il nome dell'impertorio lo so che ho sbagliato però non mi viene in mente pronto ciao Giampaolo vedi per certe persone sarebbe meglio che ti fossi un gran puttaniere probabilmente sarebbe meglio eh beh sì sicuramente hai capito ma questa è la cristianità e questo è il cattolicesimo che è dentro di noi altri sì sì sono d'accordo con te Giampaolo comunque a me stai bene anche come sei grazie ciao ciao grazie a te pronto? sì scusa ti telefono io sto ascoltando molto attestamente quello che dici quando sento certe telefonate di certe isteriche che credono bovinamente a tutto quello che le hanno detto da duemila anni mi fanno una pena tieni duro e non badare a certe idiozie ciao e grazie grazie ciao pronto? e non mi fa tanto pena questo che ha il telefono adesso proprio la vera miseria della sua schiena d'accordo ciao pronto? pronto? ciao io non ti ho mai chiamato però adesso te lo voglio dire io ti sto a ascoltare e voglio sentire e voglio imparare chi non lo vuole fare si mette da una parte e dormo tranquilla ciao grazie ciao grazie a te il problema il problema è questo cioè io tanto non ho mai detto che sono una persona acculturata e ho sempre detto che la mia cultura l'ho presa proprio per capire quello che succede quello che mi succede attorno dopodiché non ho l'abilità di un oratore non ho neanche l'abilità di uno che fa fesse le persone pronto? pronto ciao 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 senti mi sono ignorante no non volevo fare questa domanda prima ti ho parlato di Socrate sì ecco e mi volevo domandarte cosa ti ne pensi del sommo Dante volevo che te mi dassi una risposta sì dà una risposta per radio sì perché non lo so mi ho letto poco non ho studiato ma non credo che abbia tutta questa validità che chi dice insomma ecco non so una roba che sento dentro di me voleva anche Gian Paolo che stimo molto intelligente se poteva a rispondermi a Caio e ti insieme va bene ciao grazie ciao intanto mettiamo i puntini sui Dante è effettivamente uno dei più grandi poeti italiani questo non ci piove niente sopra Dante sta alla poesia come Michelangelo sta alla pittura dopo il soggetto che loro hanno trattato appartiene al loro tempo appartiene alle loro cose al loro modo di essere è chiaro che la forma e il pensiero che hanno trasmesso fanno parte della loro cultura del loro essere però effettivamente dal punto di vista visto che dobbiamo costruire una lingua italiana una base ci vuole cioè ci vuole un punto di riferimento e secondo me Dante ma anche i Goldoni sono i più grossi punti di riferimento che avevamo pronto ciao Claudio ti ascolto sempre grazie volevo darti una parola di solidarietà grazie comunque Socrate diceva che non era un ebete io so di non sapere e purtroppo in Italia e nel mondo andiamo male perché grazie a proprio gente acculturata intelligentona no? abbiamo visto dove stiamo andando sai cosa gli rispondeva a carneade a Socrate gli rispondeva presuntuoso comunque diceva io so di non sapere capito? è vero e ricordati che sempre uno in giacca e gravata e acculturato te lo metti in quel posto beh io porto il giacca e gravata ultimamente vabbè insomma però bisogna stare attento comunque è così ciao grazie Andrea ciao comunque Dante intanto grazie per la telefonata di Andrea Dante resta comunque insieme a Goldoni insieme a pochissimi altri fra i punti di riferimento della lingua italiana cioè Dante per la lingua italiana Goldoni no però resta fra i più più grandi poeti che ci siano e chiaramente il soggetto che loro trattano è il soggetto della propria epoca è il soggetto del proprio modo di essere non sono dei rivoluzionari non sono cioè dirà poi che ognuno può anche distinguere ma Dante in fondo ci sono miliardi di cose da dire però in realtà non vanno a variare il pensiero non cambia una situazione in cui si vive a livello mentale sono sempre dei credenti per cui hanno questo credo questa fede e la commedia di Dante è comunque da quello che si dice l'ultimo grande scritto cristiano insomma dopo di quello sembra che non ci sia più altro pronto Claudio sono Alberto da Treviso ciao Alberto cosa dite